Vi auguro una serena giornata e buono weekend. Il messaggio di oggi è idee illuminate. La tua sorgente è tutt'una con la mente infinita della sorgente. Di conseguenza hai pieno accesso a un illimitato numero di idee che senza dubbio porteranno prosperità e gioia. Per permettere che queste idee si concretizzano dovrai solo agire seguendo la guida del cielo. Questa carta ti ricorda che la tua immaginazione è senza limiti ed è la porta d'ingresso per tutti i tuoi desideri di abbondanza. A volte arriviamo a credere che ciò che immaginiamo sia per finta e che non abbiamo alcun fondamento nella realtà. Gli angeli dell'abbondanza desiderano farti sapere che l'immaginazione umana è responsabile di molti splendidi risultati. Dopotutto la tua mente è una cosa sola con la mente infinita della sorgente. Questa carta segnala che le tue idee sono ispirate dal cielo. Forse hai sognato di realizzare un'invenzione per aiutare gli altri, un prodotto oppure un servizio che ti piacerebbe fosse disponibile. Poi manifestare queste idee nella realtà concentrandoti su un passo per volta. Quale azione legata alla tua idea puoi realizzare oggi? Gli angeli dell'abbondanza vogliono che sviluppi un'immaginazione attiva perché utilizzeranno questo strumento per aiutarti a portare abbondanza nella tua vita proprio adesso. Riceverai lampi di intuizione e nuove meravigliose idee. Puoi anche usare l'immaginazione per portare le tecniche di visualizzazione a nuove vette. Tutte le invenzioni, i prodotti o i servizi più straordinari, un giorno sono stati un'idea che qualcuno ha ricevuto e poi ha avuto il coraggio di realizzare. Gli angeli ti spingono ad avere questo stesso coraggio. A ogni nuovo passo acquisterai fiducia e chiarezza. Questo è il messaggio della buona giornata.